Hashtag Riparti Piemonte. È il messaggio che Giunta e Consiglio regionale hanno voluto lanciare a tutti i piemontesi con uno striscione di 8 metri esposto sulla facciata del Palazzo della Regione in Piazza Castello a Torino. Lo striscione è stato affisso nella mattinata di lunedì 18 maggio dal vicepresidente della Giunta Fabio Carosso e dal presidente del Consiglio Stefano Allasia e rappresenta un segnale importante nella giornata in cui quasi tutte le attività commerciali hanno riaperto al pubblico dopo il lungo periodo di lockdown. La prossima settimana verrà presentato in aula consigliare il disegno di legge per ridare slancio alle imprese e a tutti i settori dell'economia regionale. Riparti Piemonte non è solo uno slogan, da oggi è anche uno striscione per invitare tutti i piemontesi a ripartire in modo consapevole, non abbassando la guardia perché ci deve essere la possibilità che questi oltre tre mesi non siano sprecati. Dobbiamo fare in modo anche che ci sia un riparti Piemonte, gli atti legislativi, la Giunta regionale ha voluto mettere oltre 800 milioni di soldi veri in tasca a tutti i cittadini piemontesi per ripartire e far ripartire l'economia. Parola d'ordine, riparti Piemonte. Abbiamo eccellenze in Piemonte che sono turistiche, artigiani, artigianato, imprese, commercio. Da lì dobbiamo ripartire, dai nostri piemontesi e dalla nostra piemontesità. Un nuovo totem con l'hashtag Io Resto Prudente è stato invece posizionato davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, per invitare i cittadini a mantenere un corretto comportamento nel rispetto delle misure di sicurezza adottate per contenere l'emergenza Covid. In particolare si invita la popolazione a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare la mascherina protettiva.